bella ragazzi brave land andiamo avanti maga del ghiaccio allora non mi ricordo più dove eravamo arrivati qui ci fa fare il combattimento sì dai beccalo andiamo a beccare questi qua perché so già che faranno qualcosa di eccola ah che cattivi io voglio beccare lei arca c'è anche la freccia c'ho anche bravo allora prima di tutto c'ho la freccia ok poi andiamo di qua ok bello la martellata in testa forse l'avevo già fatto c'è nessuno avvicinatevi conoscete quicc quicc è uno sciamano del luogo un tipo malvagio dicono che abbia conquistato un grande potere qualcosa del genere sta radonando un esercito e questo di qui viene trasformato in rana non ci spaventa unitevi alla resistenza è vero però è solo io ma tu puoi prendere il nostro vessillo andiamo subito a metterlo eccellente benvenuto tra i raghi oh sì ok qui c'è un cattivone grande ciacciata deve finire la strada aia e ora oh e vabbè tutto così ah tutto da lontano voi adesso un altro aia e ora aia e ora ok grandissimo aia cattivone 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 io Ahi ah è vero, lo fa anche da distante, non me lo ricordo mai lui, ah, bravo ne? si sta facendo i barbatrucchi eh? bravo, e vai, caspita, 7-2-2, tanta roba ha perso, hai ricevuto 39 punti talento, oh, allora difesa, andiamo su, temere terribili punizioni mortali, ma non fanno poi tanta paura, non riesco a chiede che mi sono abituato a queste cose, oh no, fanno venire i cori brilli, ah, eh si, uh, allora, oh, hai capito, picco. aia, dai, tutti contro di lui. aia, bravo, aia, aia, ecco, lo la me lo fanno fuori eh? paura. va, eh, come è adesso? aia, hai caspita? Sì, animazione direi che è da legnato e forte. Ok, bravissimo. Non può, non può. Ah, bravo, ci ha pesato lui da solo. Quattro e uno. Buono, 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 buono. Benvenuto nel nostro negozio. Qui puoi trovare il migliore equipaggiamento del distretto. Per caso, ho visto mio fratello che deve essere un combattente per la libertà. Ha perfino rubato dell'equipaggiamento. Spero che rinsavisca e che ritorni. Qui c'è un grande bisogno di lavoratori. Qui devo soltanto tornare indietro a vedere mica che c'è da comprare. Eh, infatti, lo sapevo. Ma qui è dove sono entrato adesso, vero? Esatto, non c'è più nulla. Vediamo. Questo, che cosa che fa? Più due, meno due, più due. Vabbè, facciamo che teniamo quell'altro, dai. Semplicemente arrivi, le fuoco serpenti. Quei grini li ammazzo tutti. Ok. Questi si spostano di pochissimo, orca! Oh, guarda! Non mi è venuto a coltellare il mio. C'era il coro, potevo ammazzarlo. Bambina, bella martellata. Ah, vedi? Kung Fu. Questo va da sovare, eh. Bambina, bella martellata. BAM una bella martellata ok solo un arciere bravissimo questo che cos'è sembra che sia una specie di antico totem goblin le rune dicono che fornici e poteri speciali terra, fuoco, aria, acqua sono i nostri ordini dei maghi proteggono le tradizioni dell'equilibrio ciak ciak, lo sciamano ha preso potere di un pericoloso muleto e ora controllo del grande potere del fuoco, dobbiamo fermarlo ma ho sentito che prima era avatar, potente mago a osservare tradizioni dell'equilibrio quegli anni si è disinteressato al nostro ordine, dico che non sarebbe successo con l'aiuto del quinto elemento, la magia dell'amore bello è un sacco di roba adesso, andiamo dal cagnolino lupi 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 slupos allora, se diamo una bella massacrata con questo qui, facciamo questo mettiamo il più debole, poi sicuramente è un mago qui da lontano eh ok, è un plan, dai eh sì, da lontano, bellissimo ci sta, ce li ho anch'io da lontano ok, vediamo quelli da lì che male che male sto cagnolo non va da nessuna parte mettiamo lui perché sennò bello, mi piace il magozzo quello un po' più debole è lui, questo bucarello non fa tantissimi danno mi dà martellata in testa a quattro di quello eh sì effettivamente avevo visto che era un po' venite cari ospiti, io ho una tazza di tè di funghi capisco, capisco, non è per questo che siete venuti no, 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 eravate da mia sorella adesso è molto presente agli affari ho aperto una tenda da indovina invece sono tutta sola il mago è passato a visitarmi 20 anni fa ah sì, ha lasciato un libricino qui sarebbe sto libro? così, ho comprato un libricino ho comprato un libricino così vabbè, si sta distruggere distruggere valla lì ah, c'è lo scudo no, non ho paura di te no, diciamo che lui all'inizio non fa tanto male eh però bè c'è anche poco danno ok, così mi piacere qui vabbè no, dai ecco, quello è lo fermo sono rimasto fermo un po' troppo beh aia oh, guarda dove va il campione qua oh, guarda dove va il campione qua eccola dobbiamo ammassacrarlo questo perché non mi piace che sta lì dove sei il mio oh, guarda 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 aia è tu ho fatto anche la difesa eh ah oh 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 Ok, così si fa. Sanna. adesso siamo 5 contro 1 bravissimo 4 1 1 aveva perso un po di soldini ma fa nulla la nostra società è chiusa noi cerchiamo foresti tuttavia sono tempi difficili i giovani sono pronti ad aiutarti bella ragazzi ci vediamo al prossimo video di questo gioco fichissimo secondo me e mi raccomando di seguire il mio canale youtube facebook twitter instagram ttoc tweet per le live e tutti i social mi raccomando ragazzi mi piace commentate e iscrivetevi al mio canale youtube ciao